Oggi sono qui, sono onorato di calcare questo palco, incredibile. Dopo Sanremo, grazie mille per l'opportunità, Angelo, mi sto anche allenando per le prime serate sulla Rai. Perché siamo qui? Sono qui per presentare un grandissimo comico che ha fatto tour in tutta Italia e che da due anni purtroppo non è impossibilitato. È un palco incredibile. Facciamo l'applauso a questo palco mobile. Come dicevo è da due anni che è impossibilitato ad esibirsi nei teatri e quindi ci piace mostrare l'incoerenza facendo vedere appunto dove si creano assembramenti. Quindi lascio la parola e vi lascio questo spettacolo completamente gratuito. Cioè poi se volete dargli 5 euro non gli dà fastidio. Diori signori, Angelo Duro! Ciao Pullman! Siamo pieni ragazzi, è inutile capite, non potete salire. Abbiamo gente dappertutto. È un'emozione per me stare qua in mezzo a tutta questa gente. Senza controlli, senza green pass, senza distanziamento. Cosa che invece in teatro non ti può fare. Quindi io ringrazio i messi pubblici! Sì!